Un pacchetto di misure per le micro, piccole e medie imprese lombarde. Si tratta di FaiCredito, il bando regionale per affrontare l'emergenza coronavirus e provare a soddisfare l'esigenza di tutte quelle realtà di professionisti e di aziende del nostro territorio. La misura garantisce infatti la liquidità necessaria per portare avanti la continuità aziendale e avere le risorse necessarie per incentivare la ripartenza. A beneficiarne saranno le micro, piccole e medie imprese che hanno stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo di 10.000 euro e di durata minima di 12 mesi a partire dallo scorso 24 febbraio. Il valore massimo è invece di 100.000 euro e la durata massima di 24 mesi. Il bando potrà erogare in tutto 5 milioni di euro più un altro milione in caso di garanzia da parte di un consorzio Fidi Confidi. Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un confidi è riconosciuta anche una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi i costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1.000 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con la firma digitale sul sito di Infocamere nell'apposita sezione dalle ore 10 del 29 aprile a mezzogiorno del prossimo 30 ottobre.